Prima di essere diletta Leotta, la signora della serie B di Sky, diventando così la più desiderata degli italiani appassionati del mondo del pallone, la giornalista e conduttrice siciliana sognava come tutte una carriera nel mondo della moda e del cinema. Su Youtube sono tante le tracce lasciate dei suoi tentativi, tra questi un provino realizzato per RB Casting, il noto motore di ricerca per attori, in cui vediamo la nostra diletta fare da spalla ad un'altra ex Miss, la bella Mirella Sessa, nota per essere arrivata seconda a Miss Italia 2009. Nel provino, a Mirella viene chiesto di improvvisare una scena con diletta Leotta. Siamo in un ascensore e, con una scusa, la Sessa blocca l'ascensore e confessa alla Leotta il suo grande amore per lei. L'improvvisazione va avanti con diletta Leotta che finge di essere claustrofobica e chiede di uscire, ma Mirella la ferma e le chiede solo un abbraccio perché innamorata di lei. Un video dalle tonalità abbastanza amatoriali, lontano dalla professionalità e dalla prontezza che ha acquisito con il tempo la conduttrice futura di Sky Calcio Show. È opportuno, però, ricordare che diletta Leotta aveva in quel video solo 19 anni. Quante cose sono cambiate da allora, oggi che di anni ne ha 25. Chi desiderava un abbraccio saffico, in una sorta di prequel dello sciagurato caso Fabbening che l'ha coinvolta recentemente, con le foto del suo iPhone acchierate dall'account Dropbox, resterà deluso. È un provino innocente, recitato anche Malino a dire il vero. La sua carriera, da allora, è stata eclettica e veloce. Dai concorsi di bellezza alla radio fino ad arrivare sul canale per il più importante d'Europa. Chi se ne frega.